cercare di consolidare questo elettorato. Ad esempio potrebbe indicare Mario Draghi come candidato presidente alla Commissione europea. Lei poco fa ha detto che non è disponibile un'alleanza con i socialisti e Super Mario in questo caso potrebbe essere l'asso giusto per sbloccare la situazione. Grazie. Grazie a lei. Io ho fondato un partito dieci anni fa che alle prime elezioni ha preso l'1,95% quindi le cose erano anche molto peggio di come sembrano.